carissimi amici e amiche bentornati o benvenuti a un nuovo incontro biblico di catechesi biblica sui libri sapienziali giunta credo alla terza puntata stiamo seguendo l'ordine cronologico dei libri sapienziali quindi dopo aver visto la vincente storia di giobbe seguono proprio nell'ordine nell'ordine del testo della verbo della bibbia di girosalemi i libri dei salmi poi ci sarà la trilogia proverbi coelet e cantico quindi questa sera affronteremo il libro dei salmi presenterò delle slides dove farò prima una presentazione un po generalizzata del libro dei salmi delle problematiche con esso al salterio e poi nella seconda parte ovviamente detto questi questi incontri sono introduttori quindi i salmi sono 150 cioè andate a leggere e commentare tutti potremmo stare per altri cinque anni a fare gli incontri soltanto sul libro dei salmi no quindi qualche passaggio scelto qualche consiglio ma i salmi capiamo già bene tutti che sono stati dati dal signore non tanto per essere commentati quanto per essere pregati anche se comunque è bello comprendere un po alcuni loro aspetti allora io vorrei avviare la presentazione quindi parto con la condivisione dello schermo solo un po di pazienza ok bene ok parto con la presentazione se c'è qualche problema i collaboratori per fuori mi facciano sapere perché abbiamo fatto una prova dovrebbe funzionare tutto bene però sarà mai vado a risami si possono sottotitolare la preghiera pubblica e ufficiale dei figli di dio quindi è fondamentalmente la modalità con cui dio stesso ha messo sui suoi figli sui membri del suo popolo quindi quelli che lo conoscono e che lo adorano le parole che vuole sentirsi dire quindi già con questa introduzione capiamo come già abbiamo il padre nostro come norma fondante della preghiera no ma i salmi ne sono un altrettanto caposaldo imprescindibile capite quando dio ci mette ci dà lui stesso delle cose omettere totalmente una cosa di questo genere come pensate no sarebbe pazia ed infatti la preghiera pubblica ufficiale della chiesa è fatta attraverso i salmi come non potrebbe assolutamente essere diversamente no ora andiamo a vedere una presentazione sommaria un po' del di questo argomento allora assoluto il termine salmo etimologicamente vuol dire un canto da eseguirsi con accompagnamento musicale ecco la miniatura che accompagna questa 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 slide è quello appunto di davide che sappiamo accompagnava i salmi con il canto e con scusate con l'accompagnamento della cetra la cetra che è lo strumento diciamo così musicale ufficiale per l'antico testamento un po' quello che poi sarebbe diventato l'organo nella chiesa il numero complessivo dei salmi è di 150 e l'insieme dei santi delle scusate dei salmi nella tradizione della chiesa è stato denominato il salterio chi è che ha scritto i salmi? il principale compositore dei salmi è stato re davide perché quasi la metà rega un'intestazione di davide potrebbero essere anche di più il salterio diciamo così è tradizionalmente diviso in cinque libri allora dall'1 al 41 sono quasi tutti di davide dal 42 al 72 ce ne sono 18 di davide il 72 di salomone poi il 73 dal 73 all'89 l'86 soltanto è di davide dal 90 al 106 due sono di davide il 90 è di mosee e 107 150 dove abbiamo 15 salmi di davide il 127 è di saromone vedete che anche saromone è stato un compositore di salmi così come anche il grande mosee ok tipologie dei salmi come si possono classificare i salmi poi uscito dalle slides vi andremo a rivedere qualche estratto anzitutto i salmi sono di lode e di ringraziamento cioè i modi con cui il signore dio vuole essere lodato e ringraziato da noi perché la prima cosa da fare nei confronti di nostro signore è la lode e il ringraziamento la nostra preghiera diventa una grande preghiera quando è sempre meno rivolta a chiedere 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 ma piuttosto a lodare, 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 ringraziare, ringraziare, ringraziare se noi non chiediamo al nostro signore ci riempie di bene dalla mattina alla sera ecco ma quasi nessuno lo ringrazia pensiamo poi a quanto pochi lo lodano e lo ringraziano vedremo qua questo lo andremo a vedere il bellissimo salmo 33 dovrebbe essere benedirò il signore in ogni tempo sulla mia bocca sempre la sua lode qui si potrebbe leggere questo salmo incombinato e disposto con un passaggio del coelet che a suo tempo vedremo c'è un tempo per nascere, un tempo per morire, un tempo per soffrire, un tempo per godere un tempo per seminare, un tempo per raccogliere cioè i tempi della nostra esistenza sono variegati è facile lodare il signore e ringraziarlo nei tempi prosperi almeno nei tempi di tribolazione ci sono ovviamente tantissimi salmi di suppliche e di domanda che cosa domandano al signore? eh, tante cose per esempio anche io qualche tempo fa su twitter ne postai un po' anche per per aiutare le persone a a comprendere anche come orizzontarsi momenti difficili momenti di prova momenti di persecuzioni momenti in cui c'è l'incalzare dei nemici che sembrano vincere dei risalmi che dicono fammi giustizia dei miei avversari difendimi dai miei nemici proteggimi fai cadere loro nella cosa nella fossa che mi hanno scavato o cose di di questo genere sono molto bene, molto importanti o poi ci sono esami di lamentazione di sfogo dell'angoscia quante volte il nostro cuore è amareggiato è appesantito regolarmente noi andiamo a cercare quasi sempre consolazioni o gratificazioni o a volte compensazioni molto molto terra terra molto molto umane ne vedremo qualcosa di ognuno di questi nella seconda parte se Dio vuole per esempio con la mia voce al Signore che gli dà aiuto cita a memoria l'incipit del Salmo 142 dinanzi a Lui a fondo il mio lamento al suo cospetto sfogo la mia angoscia poi i salmi sapienziani per esempio è il più bello di tutti nel Salmo 119 lunghissimo che è la promessa di osservare la legge del Signore beato l'uomo che cammina nella legge del Signore invoco con tutto il cuore il Signore rispondi mi costruisco le due vie è lunghissimo i salmi che raccontano le opere di Dio oh meraviglioso cioè perché una grande forma di preghiera questo Israele ce l'aveva è ricordare le opere che Dio ha compiuto in favore del suo popolo è chiaro che questo è un è un insight è un input per dirti per esempio tu saresti capace di scrivere un bel salmo che racconta le opere di Dio nella tua vita non soltanto nella storia di Israele ci ha liberati dall'Egitto ci ha sfumato con la manna ha aperto il Mar Rosso ha aperto il Giordano ha distrutto i nostri nemici ci ha messo in una terra dove scorrere il latte e il miele eccetera eccetera no? eh ma narrare le opere di Dio che significa poi rodarlo significa tu per quante cose quante cose sapresti dire e raccontare di quello che Dio ha fatto nella tua vita? o poi ci sono gli estromessi dalla riforma liturgica perché la riforma liturgica adesso non vorrei polemizzare i salmi imprecatori li ha completamente tolti dal salterio cioè adesso ti prega la liturgia delle ore non prega con 150 salmi ma con 148 perché questi non ci sono propri e siccome non ci sono soltanto i salmi imprecatori sono anche dei passaggi imprecatori in alcuni salmi quelli sono stati sforbiciati è proprio la ma tutto normale? eh no figli alle mie cari perché se questi cose guardate che sono il linguaggio è molto forte cioè spezza cioè i loro figli rimangono orfani che i loro modi vedo riguardo riguardo i nemici no ma vedete cioè il non affrontare la difficoltà chiaramente interpretativa che questi salmi propone è che fai siccome non riesce a interpretare li espungi questo non è mai stato fatto cioè che io sappia in tutte quante le versioni dei breviari precedenti io conosco bene quella del 62 i salmi ci stanno tutti a 150 è in forma integrale non c'è nessun taglio nemmeno ad un versetto perché chi siamo noi cioè un conto che tu magari in una celebrazione sai vuoi un po' far converge sforbici un po' ma questo ma comunque come fai a sforbiciare cioè il fatto che tu alcune cose non le capisci mica ti giustifica a sforbiciarle è perché il nostro signore mica si è sbagliato a ispirare quel salmo così come è stato ispirato eh ogni tanto bisogna fare un pochino di di attenzione perché perché corriamo il rischio di mettere già a di sopra i domini di Dio no? salmi che esprimono la ricerca il desiderio l'amore di Dio alcuni sono per esempio quanto sono come la cerba anela e corsi d'acqua il 42 no? così l'anima mia anela a te o Dio no? oppure proteggimi o Dio in te mi rifugio ho detto a Dio se tu è il mio signore senza di te non ho alcun bene per i santi che sono sulla terra uomini nobili a tutto il mio amore eccetera no? poi ancora passiamo alla slide seguente salmi regali salmi messianici per esempio nel 2 e nel 110 quello che cita Gesù nella disputa con i farisei nel 110 dice il signore al mio signore siete alla mia destra finché io come tu ne mi sceghe bello dei tuoi piedi no? Gesù dice come mai scusate il messia è figlio di Davide sì e allora come mai che in quel salmo viene chiamato dice il signore al mio signore come al mio signore dice se è il figlio come fa a chiamarlo signore? capite? Gesù stava spiegando che in questo salmo misterioso che aveva creato problemi ai rabbini c'era prefigurato in maniera neanche troppo implicita perché dice il signore al mio signore se uno vede il testo ebraico non è che c'è tanto da pensare siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici e sgabbello dei tuoi piedi che è quello che si è compiuto con il nostro signore il nostro signore è saluto alla destra del padre fino a quando nel corso della storia dello scorrere del tempo tutti i suoi nemici saranno diventati sgabbello dei suoi piedi per esempio in questo momento storico vediamo bene che i nemici sono tutt'altro dei suoi piedi per ora ovviamente no poi per esempio ci sono alcuni esami che sono strutturati secondo l'alfabeto ebraico quindi aleph bet ghimel daleth eccetera eccetera no quindi hanno questa classificazione cioè le lettere dell'alfabeto circoscrivono le strofe anziché i numeri le lettere dell'alfabeto e questi si chiamano salmi alfabetici poi ci sono bellissimi salmi ascensionali che è il gruppo dal 120 al 134 cioè i salmi che si cantavano quando si facevano le preghine a Gerusalemme guarda Gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore e ora i nostri piedi si fermano nelle tue porte Gerusalemme che è il più famoso no anche questi sono salmi molto molto belli che esprimono proprio la gioia dell'incedere e quindi poi da ritrovarsi verso la casa di Dio e poi ci sono i salmi allelujatici il grande allel salmo 136 e il piccolo allel sono raggruppati così la serie dei salmi che va dal 113 al 118 ecco queste sono le classificazioni principali diciamo abbastanza riconosciute anche adesso ora cosa sono i salmi nella nostra vita già accennato in inferenze dell'introduzione Dio ci mette in bocca le parole della preghiera questo è un dono di fatto Dio non ci ha voluto lasciare come dire senza una guida quindi tutto quello che sta scritto nei salmi può e deve essere oggetto della nostra preghiera personale Sant'Agostino diceva non possiamo cambiare le parole del Padre Nostro della preghiera no ma se preghiamo personalmente ma guarda se anziché dire sia santificato il tuo nome gli vuoi chiedere fa che io diventi santo di tutta quanta la mia famiglia diglielo pure perché sta dicendo la stessa cosa quindi purché si tratti di cose compatibili con il Padre Nostro si possono usare anche parole diverse ma se io dovessi dire che ne so dammi al di là del pane quotidiano quindi dammi una grande abbondanza di ricchezza tutta e subito e sicuramente non sarebbe una preghiera ben fatta nei salmi peraltro c'è tutta quanta la nostra vita la vita dell'uomo con tutti quanti i suoi stati d'animo situazioni vicende esistenziali umane tutto come il Padre Nostro è dunque la norma della nostra preghiera quindi parlare a pregare con i salmi significa anche mettersi diciamo nell'onda di questa scuola no che indirizza la nostra preghiera o chiaramente dopo la Santa Messa è la forma più alta di preghiera questo ricordiamolo perché il pregare con i salmi fa parte della preghiera che si chiama liturgica liturgia vuol dire un'azione ufficiale della Chiesa quindi tu dici pregare con i salmi vale più anche del rosario da un punto di vista di dignità sì perché è una preghiera liturgica da un punto di vista di efficacia e di grazie che si ottengono questa è una bella lotta io non me la sento di esprimermi ecco perché il nostro signore pur evidentemente ovviamente privilegiando la preghiera ufficiale della Chiesa sua sposa però il rosario ha legato una montagna di grazie con essi ha pregato Israele Gesù Maria e San Giuseppe che si vedono qui insieme pregavano con i salmi e pregavano come prega ogni più esraelita mattina mezzogiorno alla sera probabilmente forse anche di più ma questo sicuramente l'hanno fatto non c'è assolutamente nessun dubbio quindi ci ha pregato Israele ci ha pregato il nostro signore Gesù Cristo e ci prega la Chiesa è una preghiera normativa per l'antonomasia ecco sperando che sia andato tutto bene con la presentazione che abbiamo potuto vederla adesso è chiaro che dobbiamo andare un po' a gustarne qualcuno ecco ho fatto qualche piccolo accenno e andiamo a vederne qualcuno tra i salmi di rote e di ringraziamento adesso cambio l'inquadratura esco un attimo e poi rientro perché andiamo adesso a inquadrare e condividere lo schermo con la scrittura ok allora per quanto riguarda appunto i salmi possiamo cominciare a vedere tra i salmi di rote di ringraziamento io qui chiaramente sarò di parte perché vi condividerò i miei preferiti quindi ce ne sono tanti altri però cioè prendere il salmo 84 che non è di Davide è dei figli di core è qualche cosa di veramente spettacolare no quanto sono amabili le tue dimore signore degli eserciti o i salmi leggerli in ebraico e commentarli in ebraico è un'impresa perché chiaramente il salmo non è prosa è poesia quindi muoversi dentro la poesia è un po' come in italiano no cioè se io sto vado in prosa ma se comincio ad andare in poesia è insomma diventa un pochino più difficile raccapezzarsi no quindi diciamo che la lettura del testo sarà fondamentalmente in italiano o per esempio soprattutto in latino con il testo della vulgata con cui la chiesa ha pregato per tanto per tanto tempo no ecco quanto sono amabili le tue dimore signore dio degli eserciti no questo è in ebraico non si legge questo qui ma è Yahweh Zerot che è proprio il signore degli eserciti adonare lo dicono l'anima mia languisce e brama gli atri del signore bellissimo desiderate defecit anima mia natria domini nafshi nafshi appunto il verbo è kasaf si si capisce abbastanza bene desidera proprio desidera desidera fortemente ecco infatti languisce no e brama brama è proprio brama fino al punto che ha gli svenimenti d'amore ecco il verbo è calano ecco poi è bellissimo il mio cuore è la mia carne esultano nel dio vivente il dio vivente bellissimo il mio cuore è la mia carne le vi i besari e poi anche il pasto lo trova la casa la rondi nel nido dove pure i suoi piccoli persi i tuoi altari signore degli eserci del mio regno e poi ancora vedete che bello beato chi abita la tua casa sempre vedete sempre canta le tue lodi e poi un altro passaggio beato chi trova in terra la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio quale sarebbe questo santo viaggio il messillot bil ralamo nel suo cuore il santo viaggio no il santo viaggio è il viaggio verso la santità amici cari che deve essere deciso nel cuore la decisione come diceva Santa Teresa che ho festeggiato qualche giorno fa altro ieri devi deciderli anzitutto ecco che cosa succede durante questo viaggio che si passa per la valle del pianto sta valle di lacrime dice la Santa Regina ma sta valle del pianto viene cambiata in sorgente e cresce lungo il cammino in suo vigore questo era un salmo che si usava anche anche se era un salmo ascensionale però per accompagnare la preghiera del preghiera di Gerusalemme finché comparare davanti a Dio in Sion questo anelito per un ebreo arrivare al tempio e mettersi alla presenza del Signore era il top era no? ecco e poi Signore degli eserciti ascolta la mia preghiera porgi l'orecchio e poi vedete che belle cose per me un giorno nei tuoi altri è più che mille altrove stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare non direi negli tempi no? a gustarsi di questi salmi no? quindi tu lo reciti però lo fai tu o tu glielo dici al Signore magari è più che un giorno nei tuoi altri è più che mille altrove perché solo esclude il Signore Dio il Signore concede grazie e glorie grazie e glorie la grazia in questa vita era quella dell'altro non rifiuta il bene a chi cammina con retitudine e infine una delle belle beatitudini peato nuovamente confida bello no? quindi questa sera è un incontro un po' biblico un po' sui generis perché lì si andiamo a gustare la bellezza di queste cose non c'è molto da da commentare invece molto da gustare andiamo a vederne per esempio una un esempio di un salmo di supplica e di domanda no? per esempio potremmo andare a vedere facciamo il 141 ecco stiamo dicendo salmi di su che ti domandano signora te grido accorri mio aiuto ascolta la mia voce quando rinvoco vedi che bello come incenso salga a te la mia preghiera capite anche l'incenso l'uso liturgico dell'incenso no? perché l'incenso sale verso Dio no? a simboleggiare la nostra preghiera che deve salire le mie mani alzate come sacrificio della sera e che cosa chiede qui il salmista questo è Davide per questo ho avuto scegliere un salmo poni signore una custodia alla mia bocca sorveglia la porta delle mie labbra sapeste quanto spesso dovremmo fare questa preghiera perché da molto parlare non manca mai il peccato diceva sempre Santa Teresa questa sera la stiamo citando abbastanza una custodia alla mia bocca che il nostro parlare sia sempre saggio costruttivo sapiente sorveglia la porta delle mie labbra e poi oltre alla non lasciare che il mio cuore si piega e al mare e compie azioni inico con i peccatori che io non gusti i loro cibi deliziosi vedete che bella preghiera non lasciare che il mio cuore si inclini al mare perché è lì il problema grosso non lasciare che il mio cuore si inclini al mare alla parola malvagia e compie azioni inico inico con i peccatori quindi vedete no prima bisogna chiedere al signore di non lasciare piegare il cuore perché è il cuore che comanda se il cuore si piega al male tu le azioni inico le farai quindi sarebbe sciocco piegare soltanto non lasciare che il mio cuore non lasciare che compie azioni inico con i peccatori senza aver messo quella premessa no e che io non gusti i loro cibi deliziosi apparentemente deliziosi oh guardate poi che cosa chiede al signore mi percuota il giusto il fedele mi rimprovera mi percuota cioè chi di noi è capace a pregare dicendo oh piuttosto che andare a fare un peccato mandami qualcuno che mi suoni e se mi vuoi suona tu benissimo mi mandi un bel castigo preventivo dopo la diretta alzi la mano chi prega così e il fedele mi rimprovera ma l'olio dell'empio non profumi il mio capo e tra le loro malvagità siamo circondati dagli empi che cosa facciamo continui la mia preghiera c'è un passaggio poi di speranza no che questi empi malvagi dalla rupe furono gettati i loro capi che da me avevano udito dolci parole come si fende e si apre la terra le loro ossa furono disperse alla bocca degli inferi e poi vedete a te signore mio dio sono rivolti i miei occhi in te mi rifugio proteggi la mia vita vedete che bello che mostrarsi queste cose preservami dall'accio che mi tendono dagli agguati dei malfattori vedete quante cose belle che ci dice il signore questi panni malvaggi continui a pregare però ti chiedo preservami da questa gentaccia gli empi cadono insieme nelle loro reti ma io passerò oltre in colore qui se non ricordo male per esempio nella versione in lingua volgare della nuova liturgia delle ore il pezzetto 10 forbice ma no ma gli empi cadono insieme nelle loro reti come no ci cadaranno e come capite quando cioè qual è il problema perché il nostro signore dice queste cose perché esistono anche i salmi pregatori perché le categorie degli inconvertibili esistono ma non voglio riaprire un'altra commedia che poi in diretta mi fanno una montagna di domande noi non sappiamo chi sono gli inconvertibili ma Dio lo sa cioè l'empio proprio l'empio non è il peccatore che un giorno si convertirà no l'empio è la persona iniqua l'empio è la fotocopia di Satana cioè nel senso che Satana il primo peccato che ha fatto non si può convertire l'empio è quello che non si convertirà mai è certo che il signore gli darà la possibilità di farlo fino al termine della vita cosa lo farà ma come ha detto altre volte i beati nei confronti dei dannati non hanno nessun sentimento di compassione né né di misericordia ma non bisogna averlo cioè la problematica posta dai versetti in pregatorio dai sani in pregatorio è molto profonda perché provoca non soltanto la nostra idea di Dio ma anche tutta quanto una serie di corollari intorno a questa cosa importanti bene andiamo a fare un altro esempio i salmi di lamentazione e di sfogo ce l'abbiamo vicino uno ecco così non andiamo troppo distanti ci abbiamo il 142 sempre di Davide con la mia voce al Signore grido aiuto con la mia voce supplico al Signore davanti a Lui davanti a Lui e fondo il mio lamento al suo al tuo cospetto vedete poi ogni tanto passano dalla terza alla seconda persona sfogo la mia angoscia ehi Davide che chiamava il Signore come colui che era liberato da tutte le sue angosce angoscia andiamo a cercare la consolazione dove se noi se noi cerchiamo i consolatori umani a parte il fatto che sono in pochi quelli che sono in grado di consolarci realmente ma non c'è mai una consolazione profonda e reale perché è il Signore che te la dà allora perché ci sta tutta quanta questa angoscia mentre il mio spirito diviene meno tu conosci la mia via attenzione questo è Davide quando era nella caverna in una situazione difficile nella sua esistenza perseguitato sappiamo bene da chi non lo voglio dire perché così chi non ha sentito gli incontri biblici del suo antico testamento si vanno a vedere mentre tu conosci nel sentiero dove cammino mi hanno teso un laccio non c'è per me via di scampo nessuno a cura della mia vita e io che faccio io grido a te Signore dico sei tu il mio rifugio sei tu la mia sorte nella terra di viventi ci ascolta la mia preghiera la mia supplica ho toccato il fondo dell'angoscia salvami dei miei persecutori perché sono di me più forti strappa dal carcere la mia vita perché io renda grazie al tuo nome i giusti mi faranno corona scusate quando mi concederai la tua grazia bello no? oh poi ci sono i salmi salienziali per esempio andiamo a vederlo il salmo 37 molto molto bello anche questo non ad adirarti contro gli empi non invidiare i malfattori perché? perché come fieno presto appassiranno cadranno come erba del prato amici miei cari amici miei cari scusate questo è sempre un incontro un po' catechetico ecco questo salmo ci aiuta un pochino già l'incipit vedete questo è anche un salmo non mi ricordavo meglio ancora perché questo è anche un salmo vi ricordate come abbiamo chiamato un salmo alfabetico vedete qui faccio vedere ecco chi vede la diretta aleph è la prima lettera dell'alfabeto ebraico bet è la seconda email dalet he bau zain het tet yod eccetera no questo è stato molto lungo lo vedremo tutto ma non attirarti contro gli empi non invidiare i malfattori invidiare in che senso? eh questi ne fanno quanto e Carlo in Francia e allora gli è tutto bene io invece se scrivo al bravo ragazzo mi è tutto storto questo è l'invidia ok ho la tirarti contro gli empi tentazione di moltissimi lo sdegno l'ira quando si vedono delle impietà in atto è una cosa buona? non è una cosa buona come fieno presto appassiranno lasciali perde cadranno come erba del prato non te li fila proprio sapete che pure il diavolo diventa una belva quando noi non ce lo filiamo proprio se io invece vedo gli empi che stanno a fare ma veleno ma rabbio ma impreco gli amando gli accidenti il diavolo è contento perché questo è quello che vuole specialmente quando si tratta di quelle impietà che non si possono fermare questi come fieno appassiranno cadranno come l'erba del prato e quindi che facciamo? ah tu devi fare una cosa molto semplice confida nel signore fiero di Dio e fa il bene avanti gli empi che fanno fanno il male e tu fai il bene più male fanno e più continui a fare il bene vediamo chi si è stanca prima e poi abita la terra e vivi con fede e poi cerca la gioia nel signore guardate che bello che è la gioia cerca nel signore non andai a cercare altro lui è stato dirai desideri del tuo cuore al di là di quanto tu possa immaginare e poi tu manifesta al signore la tua via non è che siamo ma la divina volontà la volontà di Dio allora la divina volontà di Dio non ti casca sulla testa come una come un macigno oppure come un cappio che ti prende al collo e ti trascina no cioè tu ti orizzonti mi sembra che questa sia sia una vita buona conforme la tua volontà te lo dico te ne parlo gli era manifesto non perché non non perché non non la sa ma perché tu gli chiedi consiglio circa quello che stai facendo confida a lui compirà la sua opera farà brillare come luce la tua giustizia in mezzo agli empi poi ancora sta in silenzio davanti al Signore e spera in lui in silenzio davanti al Signore vedete che bello non irritarti per chi ha successo per l'uomo che travenzitie desisti dall'ira deponi lo sdegno non irritarti sarei paresti del male i malvagi saranno sterminati ce lo vogliamo mettere bene in testa si divertano fino a quando il Signore glielo permette si accomodino pure capite che significa vivere con con la fede guardate che questi sono i tempi in cui vivere in questo modo chi spera nel Signore possederà la terra ma vagi saranno sterminati beati i miti perché erediteranno la terra ma da dove l'ha preso il nostro Signore guardate qua sotto i miti invece possederanno la terra vedete come Gesù anche nella sua predicazione anche nelle beatitudine era infarcito di questa roba qui ovviamente ancora un po' che l'Empio scompare i miti chi sono? sono quelli che rimangono calmi e tranquilli non sono soltanto le persone che sono sempre dolci no sono quelli che rimangono calmi e tranquilli quando i malvagi stanno a fare i pazzi puiosi quando gli Empi spadroneggiano dominano e lasciali fra tanto c'erano le ore contate non lasciali fare guardando tu continua sperando il Signore fai il bene fai il bene tutto il bene che puoi cercare la gioia nel Signore questo è molto molto lungo quindi ne vediamo qualcun altro però questo è molto molto bello molto attuale molto esattivo no adesso il compito di questa lettura un po' impassante come dire di far venire lo stimolo poi andiamo a vedere un estratto dei salmi che raccontano le opere di Dio perché questi sono veramente sono salmi molto molto lunghi perché Dio ne ha fatte tante di cose belle per il suo popolo e quindi sono salmi lunghi andiamo a vederne uno ecco per esempio lodate il Signore il 105 invocate il suo nome proclamate tra i popoli le sue meraviglie cantate a lui i canti di gioia meditate meditate tutti i suoi prodigi allora e oggi quelli che adesso dirà della storia della salvezza e quelli della storia della tua salvezza delle cose belle che ti ha donato gloriatevi del suo santo nome gioisca il cuore di chi cerca il Signore solo che lo cerchi perché se lo cerchi l'ha già trovato e sentite che Dio sul cercare il Signore cercate il Signore e la sua potenza cercate sempre il suo volto cercare 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 la rascine ebraico dirashù adonai dirashù adonai cercatelo e poi ricordate le meraviglie che ha compiuto e i giudizi della sua bocca ecco comincia voi stirpe di Abramo il suo servo di Giacobbe il suo eletto ricorda sempre la sua alleanza e comincia l'alleanza stretta con Abramo il suo giuramento di sacco la stabilisce per Giacobbe come legge alleanza eterna per Israele ti darò il paese di Canaan come eredità voi toccata in sorte quando erano in piccolo numero pochi e forestieri in quella terra e passavano di paese in paese non permise che alcuno li opprimesse e castigo ai re per causa loro capito non toccate i miei consacrati non fate alcun male ai miei profeti chiamò la fame sopra quella terra e distrusse ogni riserva di panno in Egitto davanti a loro mandò un uomo Giuseppe venduto come schiavo sappiamo molto avanti la storia che ma come schiavo poi diventa il liberatore il salvatore prima degli egiziani e poi di Israele stesso e poi Israele scende in Egitto e poi gli egiziani lo schiavizzano e poi vedete versetto 26 mandò Mosè il suo server non è che si era scelto per liberarli e poi i segni dell'Egitto quindi manda le tenebre la piaga delle tenebre cambia le acque in sangue versetto 29 fa bruciare il paese di Rane dà l'ordine alle mosse tutte le dieci piaghe dell'Egitto andiamo avanti all'ultima 36 colpino il paese nel loro paese ogni primo genito e fece uscire il suo popolo con agente oro e fra le tribù non c'era alcun infermo l'Egitto si rallegrò della loro partenza capite perché su di loro era piombato il terrore erano diventati un incubo e che cosa fa ancora la nube per proteggere di giorno il fuoco per illuminare la notte e poi le quaglie e il pane del cielo la manna e poi l'acqua che sgorga dalla rupe ecco e poi e poi si ferma ce ne sarebbero ancora ecco diede loro le terre dei popoli ereditarono la fatica delle genti e perché ha fatto questo perché custodissero i suoi decreti e obbedissero alle sue leggi bello eh facciamo un check del time se abbiamo ancora un pochino di tempo possiamo oh adesso andiamo a vedere i salmi imprecatori sono due o sarebbe da fare un sondaggio volante do andiamo 83 o 109 il più vicino a quello che abbiamo fatto quindi 105 siamo vicini al 109 lo chiamo presto allora 104 106 107 108 e 109 oh allora contro di me si sono aperte la bocca del lempio dell'uomo di frode parlano di me con lingua di menzogna mi investono con parole di odio mi combattono senza motivo questo è sempre un cantico di Davide per la vittoria ok in cambio di amore mi muovono accuse mentre io sono in preghiera mi rendono male per bene e odio in cambio di amore ecco il comincio ecco l'impregazione suscita un empio contro di lui e un accusatore stia alla sua destra citato in giudizio risulti colpevole il suo appello si risolve in condanna pochi siano i suoi giorni nel suo posto lo occupi un altro i suoi figli rimangono orfei vedo come vi dicevo e vedo la sua moglie vadano raminghi i suoi figli mendicando siano espulsi dalle loro case in rovina l'usuraio divori tutti i suoi veri per gli strani facciano preda del suo lavoro nessuno gli usi misericordia nessuno abbia pietà dei suoi orfani eccetera eccetera insomma qui la sua discendenza si è avutata allo sterminio l'illiquidato dei suoi padri si è ricordato al signore il peccato di suo padre non siano cancellati siano davanti al signore sempre ed egli risperda dalla terra il loro ricordo attenzione perché ha rifiutato di usare misericordia ha perseguitato ha perseguitato il misero e l'indigente per far morire chi ha franto il di cuore ha amato la maledizione ricada su di lui non ha voluto la benedizione da lui si è allontano ecco la chiave di lettura di tutto quanto questo salmo qui vedete eccolo perché il nostro signore ci aiuta se noi non vogliamo mettere le mani avanti e vogliamo come dire dire di essere un pochino più saggi e più intelligenti di lui eccolo qui questo è il segreto contro chi si riversano queste imprecazioni contro chi ama la maledizione contro chi non la vuole la benedizione quindi contro quello che evidentemente dai divini decreti è conosciuto come tale adesso qual è il problema questi salmi noi non solo che possiamo pregarli ma dobbiamo pregarli ecco non possiamo però che ne so io sono un grande nemico cioè una persona una parte zacca e una sporta non sarebbe prudente ecco rivolgere ipso facto come dire il pensiero recitando questo salmo a lui perché non possiamo sapere se questo è uno che ha veramente amato la maledizione e non ha voluto la benedizione quindi si appartiene alla categoria degli impenitenti come dire seriali ecco si è avvolto di maledizione con un mantello e quindi si è per lui come vestito che l'avvolge come cittura che lo cinge ma tu signore vedete poi finisce in bene agisci con me secondo il tuo nome salvami perché buona la tua grazia io sono povero infelice il mio cuore è ferito nell'intimo scompaio come l'ombra che declina sono sbattuto come una locusta le mie ginocchia vacillano per il digiuno il mio cuore un po' escarne e deperisce sono diventato loro oggetto di scherno quando mi vedo uno scuoto nel capo ricorda qualcosa e l'altro salmo 21 quello che Gesù cita sulla croce dice l'incipit dice l'antifano la chiameremmo Dio mio di mio perché mi hai abbandonato un passaggio di quel salmo dice esattamente queste stesse parole scuotono le labbra storcono il capo e gli evangelisti raccontando quell'episodio passavano sotto scuotevano il capo dicevano figlio di Dio scendi dalla croce sappiano che qui c'è la tua mano tuo signore ha fatto questo maledicano essi ma tu benedici insorgano quelli e rossiscono ma il tuo servo siano la gioia quindi con questo speriamo che nessuno si scandalizzi e abbia capito qualcosa del senso dei salmi pregatori salmi che esprimono la ricerca di Dio e qui una puntatina al salmo 42 dobbiamo per forza farlo è certamente necessario necessarissimo come la cerva nelle corsi d'acqua così l'anima mia nell'atteo Dio l'anima mia sete di Dio del Dio vivente quando vedrò 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 il volto di Dio allora ricorda qualcosa beati quelli che hanno fame e sete della giustizia perché saranno sappi insanziati vedete oppure chi ha sete venga a me e beva chi crede in me vedete mi dice la scrittura Gesù non è un canale di Giovanni no? e che significa avere sete di Dio il Dio vivente? quando verrò e vedrò il volto di Dio oh ma c'è qualcuno che non vede l'ora di andarsene in paradiso che ogni sera noi abbiamo un grande timer è un timer che continua e ogni sera è un giorno in meno ecco e questo è il contesto anche qui è il le lacrime sono di mio padre giorno e notte mentre mi dicono sempre dov'è il tuo Dio questo io ricordo il mio cuore si stugge attraverso una polla avanzavo tre figli fino alla casa di Dio in mezzo ai canti di gioia gli hanno molti tutti in un feste ma perché ti rattristi l'anima mia? perché su di me gemi? spera in Dio ancora potrò rodarlo però in me si abbatte l'anima mia però di te mi ricordo dal paese del Giordano e dell'Hermon eccetera eccetera ma poi bellissimo di giorno il Signore mi ha la sua grazia di notte per Lui innalzo il mio canto la mia preghiera dal Dio vivente dirò a Dio a mia difesa perché mi hai dimenticato perché triste me ne vado oppresso dal nemico per l'insulto del mio avversario sono infrate tutte le mie ossa che dicono mi tutto il giorno dove è il tuo Dio perché ti rattristi animonia perché sono di me gemi scusate spera in Dio ancora potrò rodarlo Lui salvezza le mie volte mio Dio chiedo veramente scusa ma vedete prevedibili gli attacchi allergici non c'era niente che lo facesse intuire non so se forse è meglio chiudere se no facciamo il cinematografo però forse è bene un attimo vedere scusate tra i salmi legali e messianici il salmo 2 che è quello che perché i reggenti congiurano perché in vano cospirano i popoli scusate insorgono i re della terra i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo Messia attenzione guardate l'attualità e che cosa dicono spezziamo le loro catene e gettiamo via i loro legami sono due secoli che lo stanno dicendo e non passa giorno che questo sogno non sembri che si stia avverando giusto? e allora che succede? guardate che bello se ne ride chi abita i cieli questi stanno facendo il loro trame gli schermisce dall'alto il Signore egli parla loro con ira rispaventa nel suo destegno e come rovescerà il tutto attraverso il suo figlio annunzierò il diritto io l'ho costituito mio sovrano annunzierò il diritto del Signore e gli mi ha detto tu sei mio figlio io oggi li ho generato e ora sovrani avvertimento siate saggi istruitevi i giudici della terra servite Dio con timore e con tremore e sultate attenzione che non si sdegni e voi perdiate la via perché improvvisa ti manpa la sua era beato che in lui si rifugge quindi facciano 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 quello che vogliono poi un bel giorno di manpa l'era di Dio e gli empi e distruttori quelli che dicono spezziamo le loro catene e gettiamo via i loro legami se andranno a casa ma vorrei chiudere in bellezza il salmo 1 andiamo a concludere con l'inizio e la fine guardate come comincia il salterio beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi non indugge nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli stotti ma si compiace della legge del Signore la sua legge ma gli aggiungono non così gli empi faccio un jump al versetto 4 ma come pula che il vento disperde questi non reggeranno nel giorno del giudizio né i peccatori né l'assemblea dei giusti il Signore veglia sul cammino dei giusti ma la via degli empi andrà in rovina non ce lo dimentichiamo mai e ancora come potrà finire il salterio comincia così e finisce così come un'esplosione di lode i salmi alleluatici alleluia lodate il Signore nel suo santuario lodate lo raffinamento della sua potenza santuario in chiesa nelle nostre chiese davanti al tabernacolo e per tutto quello che ha creato lodatelo per i suoi prodigi della creazione della redenzione e della santificazione e lo datelo per la sua immensa grandezza e come con squilli di tromba con arpecete con timpani e danze sulle corde sui fraiti con cembali sonori con cembali squillanti queste erano le modalità dell'antico testamento oggi siamo un pochino più soft specialmente nel luogo sacro ma soprattutto ogni vivente diavoli al Signore chiedendo perdono per questi involontari disturbi sicuramente fastidiosi mi vergogno un po' ma pazienza a questo nostro incontro ci diamo appuntamento alla prossima puntata e che Dio mi benedica la Santa Vergine vi protegga grazie